L'intersezionalità è un termine per descrivere la sovrapposizione di diverse identità sociali nella stessa persona e le relative possibili oppressioni e discriminazioni multiple. L'intersezionalità comprende aspetti come etnia, genere, sesso, sessualità, religione, lingua e disabilità. Le persone sorde, oltre a condividere la stessa condizione, possono appartenere anche ad una comunità linguistica culturale. Questa intersezionalità è evidenziata anche nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nella persona sorda, inoltre, possono intersecarsi anche altre identità sociali. Pensiamo ad esempio alle persone sorde LGBTQ. La società e lo Stato devono riconoscere e tutelare queste identità in nome della parità. Allo stesso tempo, la nostra comunità sorda deve riconoscere, promuovere ed includere ogni diversità che la anima e la arricchisce. Insieme possiamo costruire una comunità più forte, rispettosa e inclusiva. Oggi diciamo basta a qualsiasi tipo di discriminazione o di crimine d'odio che colpisce le persone per ciò che sono.